Ragazzi non venite andate e poi ci facciamo una foto tutti insieme. Ecco Giovanni Contorelli, oggi giornata del Foibe, giornata del ricordo. Sì, oggi 10 febbraio, come è stato voluto nel 2004, finalmente dico dal nostro Stato Italia, dal 2004 viene riconosciuta la giornata del ricordo in memoria dei nostri connazionali che furono uccisi durante il regime di Tito in Ucoslavia. Si calcola che circa 30.000 dei nostri connazionali, solo per avere la colpa di essere italiani, furono barbaramente uccisi e buttati nelle foibe che rappresentavano queste fosse carsiche su cui venivano buttati tutti questi nostri connazionali dopo che erano stati uccisi. È un momento di riflessione, un momento di partecipazione soprattutto della città, è un momento che rappresenta anche per Carlentini una novità, perché solamente dall'anno scorso, dopo anni di battaglie, siamo riusciti ad avere una lapide per poter condividere un momento di pensiero, di ricordo, questi nostri connazionali che appunto hanno avuto la colpa di essere italiani, indipendentemente se avevano una tessera di partito o meno.